Siamo notati Gesù e Maria, bellissima questa terza domenica di Quaresimo che succede la parola, anche se è una quadro impegnativa, noi avremo modo di constatare insieme. Faccio un breve scursus, questa è l'ultima omelia, le prime due hanno approfondito la prima e la seconda lettura, adesso passeremo la pagina 6, importante del Vangelo in due parole, la prima lettura è la liberazione del nome di Dio a Mosè e soprattutto l'offerta di salvezza che Dio fa a Mosè e al suo popolo di tirarlo fuori da tutti quanti i suoi guani. Dopo questo episodio Dio strepitosamente si manifesta in Israele, li porta fuori dalla schiavitù che porta a compimento i suoi promessi fino a portarli a una terra dove scorre l'altro i miei promessi. Quindi è il tema della bontà del Signore e del suo voler fare tutto e per tutto il nostro bene. Nella seconda lettura San Paolo però riprende anche in maniera simbolica alcuni episodi dove sensibilizza su quello che poi purtroppo gli israeliti hanno combinato nel deserto, quindi di fronte a questa bontà di Dio hanno dato una cattiva risposta, hanno passato il tempo a lamentarsi, a morgolare contro Dio, contro Mosè, a farvi l'erotore eccetera eccetera, fino a provocare il Signore che disse voi non entrerete nel luogo del mio ricorso. San Paolo conclude dicendo attenzione perché questo episodio simbolico è un ammovimento per noi che ci dice e ci invita a riflettere come stai reagendo tu a tutto il bene che il Signore ti fa, sei capace di conoscerlo, di accoglierlo, di ringraziarlo, di ricambiarlo o scambi luce per l'alterna e reagisci con il loro e San Paolo un po' dicendo attenzione chi crede di stare in piedi, chi crede di stare in piedi, attenzione questa è una parola, vada di non cadere, cioè chi pensa di stare a posto, chi pensa di essere giusto e non è detto che non sia, perché noi pensiamo di essere giusti e tutto dimostrare se non lo siamo realmente, perché altro è quello che pensiamo e altro è quello che siamo, quello che siamo è soltanto il Padre eterno, nella sua verità, noi no, ma se anche pensassimo questo, attenzione a non fare qualche capitombolo, Gesù nel Vangelo va fuori e c'è la prima parte, due fatti contemporanei, la torre di Silo che cade e ammazza 18 persone, voi sapete quante storie drammatiche anche in Italia che sono successe nei tempi recenti, terremoti, i crolli, i alluvioni, allora che cosa si pensa di queste cose? La mentalità del tempo era, non so questi che hanno fatto, che gli sono cascadato, castigo di Dio, questo per questo per questo e per l'altro fatto, alcuni carinelli avranno fatto una rivolta, piccola rivolta del sangue, dicono il sangue dei sacrifici, lo sapete che dal tempo di Gerusalemme a quei tempi si volavano gli agnellini, quindi scorreva il sangue, Pilato ha rischiato il sangue di questi ribelli, quindi ha fatto negato, ha fatto una carneficina, ha ripreso questa piccola rivolta nel sangue, la gente ha pensato, ah questi cari dei criminali che sono stati visti, gli sta bene, non si è obbligato, li ha macellati, Gesù ha scelto questa logica, attenzione, questa logica è ancora un pochino diffusa oggi, se ti è andato qualcosa storto, chi lo sa che hai combinato, Dio ci riesce, guardate che c'è appunto già te che ancora la pensa, Gesù esce da questa logica e dice, voi pensate che questi sono i peccatori di tutti? No, no, e se non vi convertite per il tutto lo stesso modo, attenzione a capire bene quello che sta dicendo Gesù, lo sta minacciando, sta andando molto a fondo, sta dicendo una cosa molto profonda, molto al di là, capite, quelli sono delle occasioni contingenti, ma Gesù dice, attenzione, da dove vengono le disgrazie, il male, quelle che noi consideriamo sciagure, i disordini, la cattiveria, la crudetta, da dove vengono? In generale, dalla mancanza di conversione, e che significa la mancanza di conversione? Significa che dipendono dal fatto che tu non stai accogliendo l'amore che Dio ti dà, ringraziandolo, vedendolo, vivo e operante, ma stai vivendo e reagendo, come se Dio non ci fosse, spesso e volentieri, opponendoli frontalmente a quello che Dio vuole, in maniera consapevole o non consapevole, quello che la chiesa si chiama, con parola teologica, peccato, lo sai che succede se tu fai non quello che Dio vuole, cioè non fai il male, ma fai il male, male provochi, male generi e quel male ti casca a tosse, quindi quando capita una disgrazia, né bisogna pensare che è colpa di Dio, né bisogna prendersela con Dio perché non l'ha impedita, ma bisogna dire cosa stiamo combinando e non c'è un messo diretto, capite, a disgrazia e successo a quelle persone come chi lo sa che hanno fatto questi, no, no, perché una volta che uno scatena il male, capite, quando uno scatena il male è guerra, capite, tu lo inneschi e poi una bomba che non è acceso, non si sa dove esplode, perché può esplode anche in testa uno che non c'entra niente, non so se mi riesco a farmi spiegare, questa è la dinamica profonda del male, allora ci sto dicendo, attenzione, sai da dove vengono i mari, da una vita tutta lontano da me, la Chiesa ci è sorta in questo tempo a camminare in conversione, perché, perché se noi viviamo nell'amicizia di Dio, noi vivremo una vita di benessere, sotto tutti i punti di vista, primo interiore ed anche esteriore, quanto più noi stiamo lontano da quello di uomini, tanto più è peggio per noi, capite, noi quando diciamo l'atto di dolore, diciamo che peccano, ho offeso Dio, in che senso il peccato offende Dio, il peccato offende Dio, perché quando tu esci dalla sua volontà, tu ti vai ad auto condannare a stare male, Dio che ti ha creato, che ti vuole bene, che vorrebbe solo il bene, ma può essere contento di vedere un figlio che si va a rovinare la vita? Chi di voi è papà o mamma, sapete un figlio che si va a rovinare la vita? Può essere contento? Si può dire che quel figlio è un ingrato verso papà e mamma, che nemmeno il pensiero di dare un dolore a papà e mamma lo trattiene dall'andare a distruggersi la vita? Questo funziona. Allora, qua c'è la parabolita del vignagnolo paziente. La prima cosa che non dobbiamo capire è questo, i guai potrebbero dare attenzione. Quando Dio interviene, sapete Dio cosa fa? Dio impedisce che tutto il male che noi facciamo ci venga completamente tutto indosso. Quindi non capite, non è che Dio, cioè, quello che ci succede è molto meno in confronto a quello che ci mediterremo. Voi sapete cosa dice un certo Santo Tommaso da qui, non è l'ultimo arrivato, eh? Sapete che in Quaresimo ogni tanto si può parlare, anzi non è bene parlare, della triste realtà dell'inferno. L'inferno non è una bella realtà. L'inferno è un luogo di tormenti. Ma sapete Santo Tommaso cosa dice? La misericordia di Dio arriva pure all'inferno. In che senso? Nel senso che i diavoli sono così cattivi che se ti potessero fare tutto il male che poi ti augura l'inferno, ti torturerebbe in una maniera indicibile. Ma Dio non ti permette di torturarti più di quanto il numero e la gravità dei tuoi peccati lo hanno meritato. Spero che mi sono spiegato. Non Dio lo permette. Quindi capite? Cioè è talmente che, capite, così come tutti quanti guai che ci succedono. Sono molto meno in confronto a quelli che potrebbero succederci se Dio lasciasse che le nostre pessime azioni portassero a tutte le loro conseguenze. Quindi immaginate quando uno pestebbia dicendo, ah se Dio esistesse non sarebbe successo questa disgrazia. Pensate, chi ve la poteva fare nel risultato? Non so quello che dici. Perché se non ci avessi messo le mani questa disgrazia, mani della lega all'indice, sarebbe successo molto meglio e noi non lo vediamo qui. Capite? È così, eh? Allora, perché in questo contesto Gesù raccontava la paracoletta del gignogliolo paziente e poi non lo vediamo? Perché poi l'unico problema è che il nostro Signore, con pazienza, cerca di farci capire queste cose, dicendo io o mio, smettila. Capite? Facciamo un esempio. Non vai a Missa Dominica. Sono qua i vertenti. Sono grazie e lezze. Capite? Il nostro Signore è lo stanco il registro di presenze degli assenti, buoni e cattivi, perché dice, ah non sei venuto troppo. Boh me lo sento, eh? Poi quando vieni, non ti potrebbero acciare io. Ma, capite? Ma ha detto, non c'era peggio che te. Tanto peggio che te. Solo che cosa devi fare, nostro Signore? Devi prenderti a cacci e portarti per la collottola? Come fa, nostro Signore? Ti esolta. Ti manda un pensiero nel cuore, ti manda un amico e ti dice, dai, te la chissà come me. Ma non sempre, capite? Eccola, dice. Allora, dovete dare un esempio. Ma che vogliamo fare? Pazientiamo un po'. Pazientiamo. Allora, come si pazienta però? Dice, si zappetta un po' e si mette il concilio. E come fa, nostro Signore, a cercare un po' di farci ragionare? Immaginate, mettetevi nei panni della Terra, no? Se la Terra si prende un po' di zappate, è un'esperienza piacevole? Non credo, no? Quindi le zappate possono essere paragonate a qualche prova, magari. A qualche croce, a qualche sofferenza. Così come il concilio, voi sapete che i concilio non sono molto bene odoranti, no? Le concilio a volte si fanno come materiale, non del tutto. Quindi, lo zappamento delle concilio significa che il nostro Signore, per il tuo bene, per farti ragionare, per portarti a comprendere certe cose, a montare i orizzonti, ma per il tuo bene, ti manda qualche prova, ti manda qualche tripulazione, ti manda qualche cosa che ti va di traverso. Stupenzi che siano disgrazi, no? Quelle sono grazie con cui il Signore sta cercando di farti ragionare, capito? Perché fa così? Perché il Signore ci tratta sempre, questo è quello sentirete dire, fino alla nausea, nel rispetto della nostra libera volontà. Se tu vuoi continuare ad andare avanti così, liberissimo di farlo. Il nostro Signore continuerà, li troverà tutti. Quando saremo morti, questo sì è, questo sicuramente accadrà. Quando ci renderemo davanti al Signore, noi le vedremo tutti. Vedremo una volta, dopo che c'è stata fatta quella grazia, hai sentito una predica, hai incontrato quell'amico, hai avuto quella difficoltà, hai avuto quella tripulazione, che non hai saputo riconoscere, e il suo dirà, io stavo dietro a questa predica, stavo sul campo di parlarti, tu hai fatto finta di consentire, le potete dire, questo ne importa, devo dire che ti la fanno come pare, eccetera, eccetera, e le vedrai. Quindi, il tempo di quaresima, quando Gio dice, se non ti convertite, approfittiamo, facciamoci attenti, perché una cosa è sicura, Dio si sta prendendo cura adesso di te, e si sta prendendo cura di te, perché non sei già santo, non siamo già in paradiso, abbiamo bisogno tutti di conversione, io, come tutti voi, come Vescovo, come Papa, tutti, nessuno scusso, il Papa lo dice sempre, pregate per me, e dice sempre che siamo peccatori, che dobbiamo convertirci, quindi non sto mancando di rispetto a nessuno, è ovvio che dica così, ha fatto appena gli assistiti di guai, vale per tutti questo. Quindi, guai a chi si sente di stare in piedi, guai, perché questo è prossimo a cadere. Camminiamo in questa direzione, chiediamo alla Madonna, che ci aiuti a aprire il cuore, per vedere bene quali sono le cose che il Signore ci sta sollecitando, e approfittare di questo tempo, benedetto della buaresima. Siamo notati Gesù e Maria. Sempre, siano notati.